Il tema dell'autonomia non è un tema legato solo al rapporto tra i nostri territori e Roma, ma è anche un tema legato a Bruxelles. Se noi deleghiamo tutto a qualcuno che sta in una stanza a Bruxelles, poi l'autonomia la possiamo portare a casa, ma se poi la roba da dove dobbiamo prendere le competenze è vuota, in questi 30 anni l'Europa passo dopo passo si è portata via delle competenze che prima erano nelle mani del governo di Roma e ora invece stanno nelle mani di Bruxelles. Il prossimo attacco sarà fatto sulla sanità, perché questo vogliono fare. E io da leghista mi pongo un tema, noi stiamo lavorando per avere l'autonomia dei nostri territori, quindi per farci delegare dei poteri che oggi a Roma e portarli sui nostri territori, però mi domando se poi a Roma non c'è più niente, che diavolo deleghiamo ai territori?